Chiesa locale e mondo dello sport per un comune impegno educativo. E' stato questo il tema del convegno svoltosi presso l'auditorium della chiesa di San Luigi a Trani che ha visto l'arcivescovo di Trani, Barlette e Bicelli e Monsignor Giovanni Battista Picchieri incontrare i rappresentanti e i presidenti di associazioni sportive laiche e cristiane, di enti di promozione sportiva, operatori ed educatori impegnati nel settore sportivo del territorio diocesano. Ai presenti Monsignor Picchieri ha parlato dell'importanza del dialogo e dell'ascolto. Il sinodo coinvolge tutte le componenti della vita ecclesiale ma anche della vita che la chiesa svolge nella società. Lo sport è un campo in cui la persona trova spazio per realizzarsi in un modo integrale. Noi chiediamo agli sportivi quello che si attendono dalla chiesa. E' importante ascoltare non solo le esperienze e le esigenze che dall'interno della chiesa si presentano. E' necessario aprirsi ad un confronto con i singoli associazioni e istituzioni che dall'esterno si relazionano con l'esperienza dei credenti e della chiesa. Noi vogliamo anche aprire il dialogo a tutti gli sportivi, a tutte le associazioni che praticano lo sport ripeto mettendoci in ascolto, questa è la prima fase del sinodo accogliere tutte le proposte che ci vengono fatte per riflettere su queste proposte e per arrivare anche a degli orientamenti ancora più precisi, ancora più completi in modo da lavorare insieme. E cos'inodo significa proprio questo, lavoro di insieme.